Io sono Patrizia Bugani e da 60 anni mi occupo di ricerca e sperimentazione nel settore tessere. La mia attività è stata sia di docente sia di lavoro professionale. Per quanto mi riguarda ho potuto assistere a tutti i mutamenti sia di ricerca sul prodotto e sia di ricerca di macchinari sempre più innovativi. Per questo, questo corso mi è piaciuto perché si parla proprio di ottimizzazione di quello che è il processo test. Ho potuto insegnare ai miei allievi quello che poteva essere l'applicazione di quelli che sono i concetti teorici che si possano apprendere durante le lezioni che loro hanno fatto online e sulla piattaforma. Di questo corso mi è piaciuto il fatto che attraverso le lezioni online questi ragazzi avevano già una conoscenza immediata su quelli che era l'attività che loro poi dovevano fare e di conseguenza hanno facilitato poi l'applicazione pratica dei contenuti del corso. Sì, lo consiglierei perché molto spesso nelle lezioni della materia ci si limita a fare la parte teorica senza mai fare una verifica dove si vede l'applicazione di tutte le sperimentazioni e la ricerca che sono state fatte sulle macchine e sul processo proprio di tessitura. Salve, sono Stefano Toccacieli, sono un ragazzo di Prato di 23 anni e lavoro nell'azienda tessile di famiglia, abbiamo una tessitura e orditura qui nel territorio e ho scelto di intraprendere questo percorso formativo in modo da avere una più ampia conoscenza del settore tessile non solo di Prato ma addirittura europeo. Questa penso sia un grande pro di questo corso. Credo non sia solo comodità rispetto al fatto che nella formazione classica bisogna presentarsi in un luogo fisico davanti a un professore, davanti a un tecnico che ti possa spiegare in un'aula le varie metodologie. Penso sia anche, andando oltre a questo, la possibilità di avere video, foto, audio sempre disponibili quando è al momento del bisogno. Beh, da questo corso Textile Technologist credo che la cosa più importante che abbia imparato anzi che abbia ottenuto è la conoscenza e la coscienza di quello che il settore tessile riesce a produrre nel mondo la possibilità di capire tutta la parte manufatturiera, ovvero processi lavorativi che in realtà in questo mestiere, in questo settore sono fondamentali. Ed è questo quindi che mi ha spinto. È la possibilità di avere strumenti multimediali che mi facilitassero la comprensione anche di luoghi di lavoro, macchinari, mezzi e procedure che altrimenti, magari soltanto teoricamente a parole, sarebbe difficile da comprendere. Beh, questo corso Textile Technologist personalmente mi ha donato una larga conoscenza del settore tessile e quindi anche la consapevolezza di quello che Prato riesce a offrire a un mercato europeo e a un mercato mondiale. Io quindi consiglio questo corso soprattutto per questa filosofia, capire, comprendere e ampliare le conoscenze.